Se state riscontrando problemi riguardo al controller su NBA 2K25, quindi in questo caso state collegando il controller e non funziona, quindi non si muovono i personaggi, quindi non puoi fare niente neanche nel menu, quindi in questo caso per risolvere il problema andiamo un attimo a connettere il nostro controller, ovviamente anche se è connesso il controller vuol dire che funziona ma non funziona sul gioco. Quindi per questo andremo a fare un attimo un test su, vai a scrivere qua sopra, configura dispositivi di gioco USB ed eccolo qua, ovviamente il nostro controller è connesso, andate su avanzate, periferica preferita, se non inserite la vostra periferica inseritela, controller, USB, controller e fate ok. Andiamo su proprietà e vediamo se il controller funziona. Quindi il test è andato più che bene e il controller va benissimo. Una volta fatto chiudiamo un attimo qua, tasto destro su start, gestione dispositivi. Per riferiche Xbox 360, vado sul mio controller, aggiorno driver, cerco di driver nel computer, scegli da un link di driver disponibili, metto così il mio, vado avanti, installo così il driver e basta. Una volta fatto bisogna riavviare il computer. Lo riavvio più tardi. Se no puoi direttamente disabilitare il dispositivo. E abilitarlo di nuovo. Se non dovesse funzionare, chiudiamo un attimo la scheda. Se stai per esempio collegando un controller della PlayStation, ti consiglio di scaricare il programma che si chiama il firmware, quindi il firmware della PlayStation, download per Windows. Una volta scaricato vai a cercare qua sopra firmware. PlayStation ed eccolo qua. Connetti il tuo controller. Ovviamente puoi connetterlo tramite Bluetooth, quindi controlla anche se è connesso il Bluetooth, quindi se hai il Bluetooth che è attivo sul tuo computer. Se no devi sempre andare su gestione dispositivi e vedere qua sopra se il tuo Bluetooth funziona. Come puoi vedere i componenti software o andando sempre su periferiche oppure su Human Interface Device. Qui sono tutti i driver dei nostri dispositivi di gioco o qualsiasi dispositivo che abbiamo collegato al nostro computer come mouse, tastiera, controller e altre periferiche. Quindi carica così PlayStation per firmware, lo scarichi, lo installi, connetti così il tuo controller al computer o lo fai tramite cavo oppure Bluetooth. Se non dovesse funzionare andiamo direttamente su impostazioni dei dispositivi Bluetooth e di altro tipo. Scendiamo fino a giù fino a trovare il nostro controller e puntini. Rimuovi. Rimozione del dispositivo. Stacco anche la chiavetta perché il mio controller è wireless. Riconnetto di nuovo il mio controller. Ed eccolo qua, riconnesso. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Ciao.